a reggio calabria un anno di attesa per l'evento più estremo dell'estate italiana una sfida epica tra i migliori atleti attraversare lo stretto usando solo il vento e fare ritorno nel più breve tempo possibile kitesurf windsurf e barche d'altura per 5 giorni di emozioni pure seguire dal vivo e sul mega screen del surf village ed ogni notte il divertimento hawaiiano continua nel 5 day surf party continentale l'evento che ti carica di musica ed adremale sul lungomare di reggio calabria www.traversata.it grazie a tutti Grazie a tutti